Grazie Presidente, Presidente Conte, colleghi. Io per iniziare il mio intervento, anche la luce di quanto ho ascoltato finora, mi sono portato questo voluminoso pacco di carte che rappresenta l'insieme, come vedete molto spesso, dell'insieme delle mozioni, delle interpellanze, delle interrogazioni e delle risoluzioni degli emendamenti che il Gruppo di Fratelli d'Italia da febbraio ad oggi ha depositato in merito all'emergenza Covid. Ebbene, non c'è uno solo di questi atti parlamentari che il Governo abbia fatto proprio. Allora, quando ci chiedete perché non volete collaborare, noi vi rispondiamo che non collaboriamo perché ci abbiamo provato decine e decine e decine di volte e ci avete sempre risposto di no. E allora, adesso il tema del giorno pare la volontà rinnovata da parte della maggioranza di offrire una sponda collaborativa alle opposizioni. Ebbene, noi riteniamo che questa proposta sia assolutamente tardiva, assolutamente insincera e assolutamente strumentale, perché sono i fatti a dimostrarlo. Adesso che i danni sono stati fatti, adesso che i mesi sono trascorsi sprecandoli, adesso vi accorgete che esiste un'opposizione che rappresenta almeno il 50% dei cittadini. Un po' troppo tardi, Presidente Conte. Ma ritorneremo su questo argomento. Vorrei anche dire a lei e a chi ci ascolta anche da casa. Il Presidente è impegnato a parlare con il Ministro d'Inca. Evidentemente questo è lo spirito della collaborazione che il Presidente interpreta nei confronti delle opposizioni. Ma non importa. Noi andiamo avanti perché qualcuno comunque ci ascolta. Le dicevo che la preoccupazione che noi abbiamo quando intervengo io e quando intervengono i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia è quello di capire se le parole che utilizzeremo sono in grado di esprimere appieno, adeguatamente, la paura, i pensieri, le emozioni dei nostri elettori e cittadini che ci votano, che ci guardano. Perché siamo stati in questi giorni, in questi ultimi giorni, anche noi nei nostri collegi elettorali, nei nostri territori, nelle nostre regioni. Le voglio dire con estrema sincerità, Presidente, che nonostante il clima drammatico che viviamo in questi giorni e anche in quest'Aula, nonostante la gravità del momento. Il linguaggio che noi dovremmo adoperare è il linguaggio della rabbia e della indignazione, perché è quello che si respira nelle piazze italiane. In quelle piazze ordinate e assolutamente pacifiche, che hanno visto decine e decine di migliaia di persone per bene, sfilare. Io ho ascoltato, io ho visto con i miei occhi accenti di vera paura, di vero sconforto e di disperazione. Ho visto un ristoratore che ha chiesto a me di far presente a lei se era possibile avere speranza per se stesso, per la propria famiglia, per la propria impresa, per i propri dipendenti. Perché vede, Presidente, c'è un accento nuovo nella disperazione di questi giorni ed è un accento che nasce dal sentimento di una fiducia tradita. Perché lei, che si è autodefinito l'avvocato del popolo italiano, non più di dieci giorni fa ha detto agli imprenditori del commercio, della ristorazione, ai gestori delle palestre, ai gestori delle piscine e a moltissimi altri, ci sono dei protocolli da rispettare, questi protocolli saranno sempre più severi, se non li rispettate dovrete chiudere. E questi imprenditori hanno investito soldi e denari, hanno rispettato al millimetro le sue prescrizioni e poi una mattina, pochi giorni dopo, si sono svegliati con la bella notizia che dovevano immediatamente chiudere. E allora lei, Presidente, capisce come capisco io che se una volta la gente le ha creduto, la seconda volta non le crederà più, non le crederà più. E quello che serpeggia tra i cittadini è una sorta di disperazione sociale che nasce dalla constatazione che essere legi al dovere, essere corretti, essere seri, essere onesti non paga, non paga con questo governo. Perché i sacrifici si accettano se sono utili, e ne abbiamo fatti tanti, ma se i sacrifici non sono utili, quello non è più un sacrificio, quella è una ingiustizia. E voi di ingiustizia purtroppo ne avete perpetrate molte ai danni degli italiani in questi mesi, che non sono più disponibili, come avveniva peraltro a marzo, ad aprile, a maggio, a tollerare i vostri errori. Perché queste persone sono convinte che la situazione in cui viviamo doveva essere gestita in maniera migliore e più adeguata alla gravità delle scelte. E non vuole pagare per gli errori che voi avete commesso. In quelle piazze, Presidente, ma non solo nelle piazze, un po' ovunque, incontrando le persone, io incontro non garantiti, che non chiedono innanzitutto il rimborso delle loro spese, l'indernizzo delle loro spese. Chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare in legalità e in sicurezza. E spetta al Governo stabilire quali sono i criteri di legalità e di sicurezza, di stabilirli una volta per sempre. E se dobbiamo parlare di rimborsi, visto che il collega di Italia Viva ha appena fatto cenno allo spirito che l'opposizione dovrebbe accogliere di collaborazione, allora incominciamo subito, apro questa parentesi, a stabilire che i 5 miliardi che avete allocato per il decreto rimborsi sono assolutamente insufficienti. Su questo vogliamo dire una parola definitiva, Presidente Conte? C'è la volontà da parte del Governo di prendere atto che queste risorse non bastano? Incominciamo da qua il confronto tra maggioranza e opposizione. Non dalle belle parole che lasciano il tempo che trovano. Vediamo se domani o dopodomani ci saranno risorse adeguate per le persone che vivono nella disperazione e che non sanno che pesci pigliare, perché voi dalla mattina alla sera avete cambiato le regole del gioco. E questo glielo dico perché voi comprendete, come comprendiamo noi, che in questo momento la politica, soprattutto la vostra politica, non ha più l'autorevolezza per chiedere sacrifici e rinunce. Non siete credibili, non lo siete più. E questo perché raccogliete quello che avete seminato in tanti mesi di gestione della pandemia fatta da solite e stardamente senza ascoltare i consigli di nessuno. Ad aprile, Presidente Conte e Signori del Governo, noi di Fratelli d'Italia in questa stessa Aula le abbiamo riconosciuto, credo con onestà intellettuale, che lei affrontava una pandemia sconosciuta, un nemico che nessuno aveva visto prima e che quindi alcuni errori erano sicuramente giustificati. Però le avevamo anche chiesto un piano nazionale delle emergenze, come fanno tutti i Paesi seri in questo mondo. Invece voi avete fatto esattamente il contrario. Avete incominciato demolendo la protezione civile. Non c'è più la protezione civile, c'è un signore commissario straordinario che nessuno ha capito che competenze abbia in materia di emergenze. Sicuramente conosce molto bene le segreterie politiche dei partiti di centro-sinistra. I risultati li abbiamo visti. Il piano di emergenza nazionale serviva a realizzare alcune cose semplici e necessarie. Innanzitutto, glielo dico ancora una volta, a stabilire che c'è uno solo che comanda, uno e uno solo, uno che parla, uno e uno solo. Non il carnevale che abbiamo vissuto in questi mesi e in queste settimane, in cui tutti parlavano, nessuno ascoltava. Tutti comandavano, nessuno obbediva. Tutto si annuncia e niente accade. È il caos e talvolta anche la fiera delle vanità. Per cui abbiamo assistito alla Cassa Dirigente di questo Paese, non solo politica in verità, che ha approfittato della pandemia e del Covid per ritagliarsi un pezzettino di notorietà a poco prezzo e invece di preoccuparsi ognuno per la propria responsabilità di evitare che la macchina andasse a sbattere. E ancora, in replica a quanto ho sentito da parte di alcuni esponenti della maggioranza, che dicono che le opposizioni, però anche l'Europa nel suo complesso. Incominciamo a dire innanzitutto che se pensiamo di salvare il nostro Paese guardando i guai dei nostri vicini di casa, noi non andiamo lontano. Anche perché quei Paesi, sfortunatamente per noi, hanno condizioni economiche che noi ci sogniamo. Le opposizioni hanno fatto il loro dovere, hanno fatto il loro mestiere e credo che l'abbiano fatto anche bene. Ma a Palazzo Chigi non c'erano le opposizioni. Non c'erano le opposizioni nella protezione civile, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore della Sanità, nel Comitato Tecnico e Scientifico, nella struttura commissariale. C'erano i suoi uomini, Presidente Conte, c'erano i suoi ministri. E lei da gennaio, dal 29 gennaio per l'esattezza, ha chiesto, ha preteso e ha ottenuto dal Parlamento un decreto per avere lo stato di emergenza e poteri straordinari. E allora, Presidente, quando si invocano e si ottengono pieni poteri, da pieni poteri, piene e totali responsabilità che lei non può scaricare sulle spalle di nessuno, perché appartengono integralmente a lei e al suo governo. E allora, in questa situazione difficile, complicata, drammatica, che noi sappiamo riconoscere per la unità che ha, le vogliamo dire apertamente, apertamente, il nostro giudizio. Noi riteniamo che lei abbia fallito. Lei abbia fallito. E glielo diciamo senza particolare compiacimento, perché temiamo che il fallimento del suo governo trascini con sé il fallimento di questo Paese, che purtroppo non se lo merita. E se avete fallito sulla pandemia, avete fallito su mille altre questioni delicate e strategiche di questo Paese. Il tempo è finito, farò solo un accenno veloce. La politica estera, la politica industriale, la Whirlpool, dico solo un nome, la politica dell'immigrazione. Ci avete preso in giro quando dicevamo che con i barchini arrivavano i terroristi. Una volta si chiudevano i porti italiani. Ne sono di nascosti nelle nostre città, ma pare che questo non turbi particolarmente la ministra Lamorgese, che sembra occupata a fare altro. E concludo, ripartendo dall'inizio, ripartendo da questo pacco voluminoso di nostre proposte, sempre rimaste inascoltate. se la maggioranza, se il Governo vuole e cerca un luogo di confronto vero, vero e non per finta, un luogo di responsabilità, noi diciamo che questo luogo esiste già e si chiama Parlamento della Repubblica. Qui siamo, qui ci troverete ancora con le nostre proposte per il bene dell'Italia senza chiedere nulla in cambio.